Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le meteo di TV6. Nel corso di questo lunedì 16 maggio avremo tempo instabile, questa volta su buona parte del nord e anche nelle aree interne del centro Italia per effetto di aria un pochino più instabile e fresca proveniente dal centro Europa che tenderà quindi a indebolire la cupola anticiclonica che sovrasta l'Italia da diversi giorni. Tutto questo però non andrà a influenzare le temperature che resteranno molto alte su buona parte della penisola. In Abruzzo sarà un inizio di settimana dai due volti, al mattino cieli sereni ovunque, mentre nel pomeriggio torneranno a svilupparsi dei locali equazioni e dei temporali negli arei interne, quindi principalmente in montagna, qualche sconfinamento anche sulle colline. Clima ancora piuttosto caldo, notate le massime tra i 23 e i 28 gradi ma non escludiamo dei picchi vicini ai 30 gradi a bassa quota. In aumento anche le minime che oscilleranno tra i 10 e i 18 gradi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni. Costruzioni.